ehi la ciurma io sono mazzatess e ben ritrovati qui su expeditions rome siamo ancora nella sedia di calcedone e siamo a parte di infiltrazione cioè dobbiamo infiltrarci o destroy as many as the five catspots as possible 0 su 5 e in 6 turni ok abbiamo delle torce sì, qualcuna questi 24, ah ok, uno e quattro vai ma se vanno solo e si accorre il più o no ahhh qua ah qui è qui è qui qui è qui è no? no, ora si va a Inspire e qua facciamo un un flash damage, ok, vediamo lui qua un po' facciamo così lei cover c'era, non può fare danni al... ah ha senso, per carità, però ma come mancati tutti e due, dai eh, niente ma gli ingegneri sono questi che scappano eh, però mi sa che ormai ok non lo issecca anche se lo ispiro eeeh, facciamo... ok, una è andata ok, una è andata ho putto a 6 ok ok non sto messo molto bene eh sto dovendo dirla tutto ok 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 Lei aveva una torcia ma l'abbiamo usata a fine Guardi! Qualcuno! Pensavo siamo sicuri qui Qualcuno ha stoptato l'uomo da uccidere l'altro Mi aiuto Chris! Sono fuori! Aiuto! Guardi! Guardi! Qualcuno! Ho sbagliato tutto eh Ma pura ancora No, sono troppi, abbiamo sbagliato tutto qua Assolutamente vero Non l'abbiamo tirato giù ovviamente No, come che non triccio? Ah ok, buono Ah no, ma mi sono tolto l'armatura solo Ma porca miseria Allora, lui è tipo circondato malissimo Eh, lo so Allora, no, questo qua non se fa Eh, tre, quattro Oppure finisce un incapacitato, no? Ancora starcere del manga Oh, ci sbagliò Mi sono protettivi qui Sei pronto Ma, oh, ma poi da dove è apparso? Per stelti, il tizio Allora Non ci arriva Posso No Niente, azione sprecata Azione sprecata Ah, c'era un tizio là, ma da quando? Eh, però non è messo niente bene E c'è l'arcere proprio là accanto E c'è il classistiro là dietro Posso andare addosso al tizio magari Non è che cosa Tirargli questo e andargli addosso Così voglio vedere dove essere Mi hanno tirato giù solo due Però quello è il problema C'è l'arcere E' qui per l'enemone Che pensi che mi avrà Prendi ancora Ma ancora sta salvinando? Ma da quando salvinano? Ancora il tizio, ma porca miseria Posso tirargli una freccia un po' in faccia Non è questo Non è anche questa soddisfazione Non è questo Buon Vai Vai, facciamo un big shot, ah questo basta anche un… vai, bravissima Iulia No, non può usarlo su se stesso, Iulia può usarlo sui luoghi Tu, puoi usare una band, bravo Questo coso non riesce a pigliare Ok, devo passare il winner Ok Cosa? Se ne andiamo per dopo, visto che l'ultimo Ah, ok, la tua è una torcia Quella potrebbe servire effettivamente Non rimane solo più un turno Eh, solo due E non è per niente facile comunque Cosa sta succedendo? Perché stiamo fuori così forti? Ancora? L'altra squadra non si può fare più di un paio di quei catapulti Ah, sarebbe stato più facile fare questo se fossimo stati Ah, senza catapulte Porca miseria Facciamo che lo continuiamo nel prossimo episodio Comunque è un po' più breve questo Ma per bisogno di tempo Io vi saluto Buona giornata e al prossimo episodio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti